Un'autogiro a due posti è precipitato in mare di fronte alla spiaggia di marina di Minturno Latina, suscitando momenti di grande paura tra i bagnanti. Il velivolo fuori controllo ha iniziato a perdere quota per poi schiantarsi in acqua sotto gli occhi increduli delle persone presenti. Ciò che poteva trasformarsi in una tragedia si è fortunatamente concluso senza vittime. Il pilota, seppur sotto shock, è uscito dall'autogiro praticamente illeso. Il video dell'incidente mostra al pilota mentre tenta disperatamente di mantenere il controllo del mezzo, optando per un atterraggio d'emergenze in mare. Con grande presenza di spirito evitato di dirigersi verso la spiaggia affollata preferendo ammarare a pochi metri dalla riva per ridurre il rischio di ferire qualcuno. Subito dopo l'impatto alcuni bagnanti si sono tuffati per soccorrere l'uomo aiutandola a uscire dall'autogiro. Nonostante l'incidente il pilota ha riportato solo lievi ferite. Le cause sono ancora sconosciute anche se si ipotizza un guasto al rotore. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il mezzo mentre i sanitari del 118 hanno pressato le prime cure al pilota. Le operazioni di recupero per la loro complessità si sono protratte a lungo.